Sono fermati qui a firmare autografi, sono stati Simone e Pepe, Alessandro Matri, macchina insieme sulla bellissima Ferrari rosso sgargiante di Simone e Pepe, li possiamo vedere via, perché è andato Andrea Agnelli qui a Vinovo sia per stare insieme alla prima squadra, l'ha già fatto ieri e ha rifatto anche oggi, ma anche per fare i complimenti e parlare a chi alla primavera della Juventus che ha vinto due giorni fa il torneo di Viareggio, la Viareggio Cup, allora oggi il presidente insieme a Beppe Matri.